29 anni dopo taglia di nuovo il traguardo ad Arenzano, com'era quella tappa? Sono più di 29 anni mi sembra, da 75, sono 34, la ragione è vera, l'ho ringiovanita, com'era quella tappa e quei ricordi che ha? La tappa non era una tappa difficile per le difficoltà del percorso, però è diventata una tappa determinante per la vittoria del Gio d'Italia perché Battagli è rimasto staccato sulla prima salita, che non era una grande salita, era in crisi, non stava bene, quindi con il fatto di Battagli che si è staccato e rimasto nel gruppo e io tra l'altro ero con lui, davanti c'è stata battaglia per eliminarlo, era la maglia rosa. Lui ha cercato di inseguire con la squadra, siamo arrivati a piedi del Bracco con un minuto e mezzo di ritardo, così, fortunatamente quel giorno mi sono sentito bene, con un paio di spagnoli, tre o quattro eravamo, siamo venuti via dal gruppo di Battagli, abbiamo ripreso il gruppetto davanti e siamo venuti ad arrivo e ho avuto la fortuna anche poi di vincere la tappa. Qui ad Arenzano prima di lei aveva vinto solo a Girardengo, ora ci passa il Giro del Centenario, che auguro puoi fare a questo Giro? Beh, intanto il Giro gli faccio gli auguri più sinceri, che possa ottenere il successo che li merita, lo spettacolo che possano dare i ciclisti, quindi che serve perché il Giro Italia è il fulcro dell'attività dei ciclisti nazionali, di avere quel successo e riportare il ciclismo a livelli che li competono senza polemiche e senza strascidi di niente. Poi il fatto che ho vinto dopo il Girardengo, non è l'unica tappa e sono arrivato vincitore dopo un grande, perché ho vinto anche la Cuneo Pinerolo che l'aveva vinta prima di me Coppi e sono arrivato al secondo anche in mondiale, è un fatto di arrivare sempre al secondo. Lei ha avuto anche tante maglie ciclamino, tante maglie verdi anche del tuo. Sì, io però sono l'unico italiano che ha vinto la maglia verde a Tour de France e ho vinto, ho fatto anche 150 vittorie, ho vinto il campione della montagna, quindi no, onestamente ho ottenuto 21 vittorie di tappa a Giro d'Italia, sono tre campioni italiane, per quello non mi lamento, potevo ottenere di più ma mi contento anche così. La vittoria più bella e il rimpianto più grosso della sua carriera? Il rimpianto sicuramente i mondiali che ho perso quando mai pensavo di aver vinto e poi io dico sempre che per me la vittoria più bella non è un campionato italiano o un'altra gara importante, ma è la vittoria che ho fatto a San Pellegrino Terme nel Giro del 74, che è stata la mia prima vittoria, non proprio la prima da professionista, avevo vinto subito il debutto a fine stagione nel 61, ma è stata la vittoria delle quattro che ho fatto a quel Giro d'Italia che mi ha dato la consapevolezza che potevo essere ancora un corridore, perché ero sull'orlo, se non sapevo se continuavo smettevo. Invece aver vinto il terzo giorno a San Pellegrino e poi successivamente ho fatto quattro secondi, ancora tre vittorie, il Gran per la Montagna, mi ha dato la spinta per... San Pellegrino mi ha dato la spinta e la consapevolezza che era ancora la promessa che ero da dilettante. Che cos'è che avvicina di più il Giro di allora e il Giro di oggi e cos'è invece che nello spirito dei giri è cambiato? È cambiato lo spirito dei Giro? Non lo so se è cambiato, perché sulle strade c'è sempre il pubblico e c'era una volta. Logicamente oggigiorno il Giro ce lo fanno vedere i mezzi di comunicazione in una maniera più perfetta. Io preferisco, cioè non vado mai a vedere il Giro d'Italia, o se mi passa davanti a casa bene, o una tappa lì vicino posso andare all'arrivo, ma non vado mai a vedere né sulle montagne, preferisco restare a casa e godermi sia il Giro sia anche le corse in poltrona e vedo tutte le sfumature.